C'è un nuovo virus che sta iniziando a diffondersi e colpisce in modi che non abbiamo mai visto prima. Ma qual è la sua peculiarità e perché dovresti preoccuparti ora più che mai? Scopriamo insieme di cosa si tratta e come proteggerci, seguendo le ultime scoperte dal Policlinico San Martino di Genova. Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie al Policlinico San Martino di Genova, abbiamo un primo caso di virus H3N2. In un paziente di 76 anni ricoverato in infettivologia che non riusciva neanche a riconoscere la moglie, tra i primi sintomi ci ha riferito di non sentire il sapore del cibo quando mangiava. Sono queste le parole di Matteo Bassetti, direttore delle malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, che ha rilasciato all'ADN Kronos. Poi continua. La stagione influenzale non promette nulla di buono. Questo virus colpisce non solo i polmoni e la gola, ma anche il cervello. È un dato importante già emerso dall'Australia, ed è la dimostrazione del tropismo di H3N2. Quindi, ci si deve vaccinare. Perché se avessimo più casi come questo, gli ospedali avrebbero un iperafflusso di pazienti e una situazione di difficoltà, rimarca Bassetti. Il virus H3N2, già noto negli ambienti scientifici per la sua aggressività e variabilità, si è fatto strada fino a noi con una mutazione preoccupante. Scopriamo come è stato identificato questo primo caso e quali sono le implicazioni per la salute pubblica. Uno dei primi segnali di allarme del virus H3N2 è la perdita del senso del gusto, seguito da confusione e difficoltà cognitive che potrebbero sfociare in un non riconoscimento delle persone care. Approfondiamo i sintomi per riconoscerli tempestivamente. Il dottor Bassetti sottolinea l'importanza della vaccinazione. Con l'avvicinarsi della stagione influenzale, è cruciale prepararsi per evitare un'ondata che potrebbe mettere in ginocchio il sistema sanitario. E tu, cosa ne pensi? Lascia un commento con la tua opinione. Analizziamo come un aumento dei casi di H3N2 potrebbe influenzare gli ospedali già sotto pressione per la pandemia in corso. Cosa possono fare le istituzioni per prepararsi a questo potenziale scenario di crisi? Concludiamo con uno sguardo alle misure preventive che ognuno di noi può adottare. La conoscenza è potere, specialmente quando si tratta di salute. La notizia rilasciata da Matteo Bassetti è un campanello d'allarme che non possiamo ignorare. La prevenzione, attraverso la vaccinazione e la responsabilità individuale, sarà decisiva per mitigare l'impatto di questo virus. Ricordo a tutti l'importanza di restare informati e di proteggere se stessi e gli altri. Non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento e di mettere un mi piace a questo video se hai trovato utili queste informazioni. Grazie per averci seguito e alla prossima!